Una giornata intensa trascorsa nel segno del manto della Madre della Misericordia. Nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, dopo una mattinata densa di emozioni per l'inaugurazione del Giubileo straordinario, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per l'omaggio all'Effigie Mariana. Ai piedi della fanciulla di Nazareth, il Pontefice ha pregato per quanti sentono più duro il cammino dell'esistenza. Le famiglie con le loro gioie e fatiche, gli anziani, gli ammalati, i carcerati, quanti sono arrivati da terre lontane in cerca di pace e di lavoro. Guardando te, Madre nostra Immacolata, riconosciamo la vittoria della Divina Misericordia sul peccato e su tutte le sue conseguenze. E si riaccende in noi la speranza di una vita migliore, libera di schiavitù, rancori e paure. Subito dopo, Papa Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, accolto sempre da un folto gruppo di fedeli in festa. Qui si è raccolto in preghiera dinanzi l'icona della Salus Popoli Romani, prima di far ritorno in Vaticano. Dì, è vero. Sì, leggere. Grazie a tutti